Ciao a tutti amici, facciamo un giletto con Moresciallo stamattina, piano piano, piano piano, senza fretta, senza fretta se qualcuno si mette dietro subito, all'altra parte, sono le 6.05 del mattino, facciamo fare un giletto ogni tanto, il resto li fai sparati dietro. Che vuoi da me? Lo so passare sul passo. Io non lo so, alle 6.05 del mattino facciamo tutta questa fretta, è il primo che incontro per strada, dove devi essere? Alle 6.07 a Milano, che siamo vicino a Varese, io non lo so. Uno sta bene sempre qui che vuole un altro. E spara testi frai. Otteno un'inchiodata, lo faccio entrare dentro, capire. Silenzio, buttiamoci il viaggetto, il rumore del Moresciallo, anzi, il suono. Faccio uno a Varese, io non lo so. Stiamo facendo una rotonda, guardate, il freno è un po' in salita, ma lui con la pinta va sullo stesso. C'è un po' la croccia. C'è un po' la croccia. C'è un po' il passaggio a livello chiuso. Se vi piace ovviamente, commentate, iscrivetevi e ciao e alla prossima polmareciallonna. Ciao!